Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Non sono un fraccio Angelo grazie per i venti, bentornato alle gas per i 12 bentornato In che ser- eh no Marzo ma mica ti puoi portare il McDonald fuori Ma che sei coglione Ma in genere li fanno dopo però A pezzote e mezza uno si può fa ma due Tu me lo metti dopo Non mi puoi contraddire mai È io zia Ho fatto uno scivolo T'ho sicuro Qua Tocca Ah ma c'ho uomo peloso Penso di aver fatto pochi punti raga Ecco perchè tocco una sbraga di roba Ragazzi io non so come state facendo Bork 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 Ah si sgattoli 5 bentornato Cosa troppo ride sto cane Cosa troppo ride sto cane Che è? Troppe c'ho Oh ah si ma quanto costa? Costa tipo 50 mila euro sto coi Cento mila dollari Cento mila dollari costa sto cosa Ma che c***o 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 Bro Spara fiamme Ma bro glielo sto sparando in faccia Oh porco dio Oh si Eh C***o No C***o 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 Cologna Buk E spara e la C***o A C***o C***o Sì Non è Hold on C***o Già C***o C***o questo che cos'è alberto che ha per i quattordici mamma mia che tiro de merda portai parli giocati bene che schifo sbocco mutevole bello ora non sentire a tour verde sto tiro c'ha senti ragazzi ci hanno fatto feste estrema con un tiro ma se non entrava che facevo la cosa ma si è fatto un milione no se non mi entrava facevo la super ok sì 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 tanto potevo anche non comprirla la faccia non l'avreste mai guardata e se vedete una donna in bichini e io porco dio comunque un saluto alla ragazza che scrive ora che ho finalmente 18 anni posso fare tutto quello che voglio ci sta ci sta succede un disastro un misfatto avviene il misfatto è che uno gli risponde la roba gli risponde avevi 18 anni nel 2006 forse e lei crede avendo filipp distrutto l'immagine la foto del maestro coperez lei risponde a filipp distrutto credendo che filipp distrutto era il ragazzo pelato e quindi niente è un attacco così in involontario al maestro dai ragazzi mi sono rimasti mollo e gian mi sono rimasti più forti mi sono rimasti gli unici che sanno giocare billy bella sei un porco dio ti devo ti devo aprire in due solo per te porco dio ti volevo ti volevo farla no ma che allucinante ho fatto ho fatto una clacciata no senso ma bro ma fa paurissima ma screggiamo che cosa è 25 ancora una cazzo di iene no ho sentito un'altra parola si una iena che sta per questo messaggio e la foto è questa ma che ho fatto io di male ma che cosa cosa sto quale linea temporale ho hittato com'è successo la tecnologia negra è qualsiasi cosa che non si collega a una stampante quello si collega a una stampante no sai perché perché i negri non hanno niente da stampare scusate cittante ben tornato no basta balla l'ho fatto tre volte l'ho fatto tre volte l'ho fatto tre volte guardando gioco hai vinto più volte da bendato che altro questa ruota è assurda perciò che hai fatto l'ho fatto è caduto non lo so non ho guardato la cacca cacca con 100% si gonfia ecco che è sta roba ah è vero questi e non lo so Ma che cazzo è Outlast? Ma nemmeno la difficoltà facile ti danno quattro batterie nella vita in generale Ma questo no ma poi senti che caldo ma che se metti zia all'angolo nativa e poi gli apri il culo Let's go skates! Sì è così che si vince nel capitolo 5 di Fortnite in classificata zero costruzioni sì è così sì No frate non è così che si fa Ragazzi ragazzi ma sono le tre siamo al cinquantesimo che è in porco dio porco dio C'è qualcosa ma scusa ma mica è vera Ma che sapevo io l'ha detta Maurizio Merluzzo questa la doppia da lui Rida pirati Non so Angelo grazie per i venti bentornato Ale grazie per i 12 bentornato Sub grazie per il sub